Ciao, sono Alice! Come ogni giovedì, è uscita l'anteprima Lidl. Vediamola subito! Ehi! Perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione. Vuoi vedere un altro volantino? Coprilo subito su trovavolantini.it Siamo arrivati a 40.000 iscritti! Il primo che indovinerà la mia data di nascita riceverà un simpatico omaggio. Dai, provaci! Su trovavolantini.it Le offerte della tua città A portata di un click Che ne pensi di queste offerte? Scrivimi commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. E tu? In quale negozio vai? Scrivilo nei commenti! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!